Ciao, bentornati nella mia stanza e siamo di nuovo con un nuovo episodio di distruggi questo diario e l'ultima volta eravamo arrivati a strofina qua della sporcizia e oggi ripartiamo con usa questa pagina come test per colori, matite e pastelli io ho usato semplicemente i pennarelli perché dovevo comunque vedere quali dei miei funzionavano meno e quindi li ho provati un po' semplicemente poi, prossima pagina fai gocciolare qualcosa qui adesso io mi munisco di un foglio di carta dopo già del diario perché non ho intenzione di sporcare tutto quanto è con della china e un pennello adesso ho fatto un po' semplicemente un po' semplicemente un po' semplicemente bene, ecco cosa è uscito dopo che ho chiuso il diario perché non sarebbe asciugata abbastanza in fretta proprio per vedere quindi ho deciso di chiudere e sembra in effetti uno di quei test che vi fanno con l'immagine voi dovete dire cosa vedete è figo però, davvero figo comunque prossima pagina cuoci questa pagina io ho già disegnato qualcosa e poi cucirò i bordi e quindi adesso mi munisco di un ago con il fido e cuociamo ed ecco cosa ha il vento fuori cucito tutto le cicatrici la bocca nel collo finito purtroppo è uscito dall'altra parte qua un po' il segno dell'inchiostro di prima quindi peccato comunque prossima pagina traccio il contorno delle cose che hai in borsa purtroppo qui ovviamente ho dovuto con cui c'è il filo della cucitura comunque ci sono le chiavi questo arancione è il contorno del sacchetto dei dadi di Dungeons & Dragons questo marrone è l'astuccio l'astuccio che mi porto in giro quando vado a giocare poi tutti questi colorati con i numeri sopra sono i dadi la gomma e il burro cacao è basta non ho altra in borsa poi prossima pagina copri questa pagina con cose bianche e io non so se si vede ma ho fatto gocciare sopra della cera di una candela bianca qui ci ho toccato uno scontrino al contrario per essere bianco poi una come si chiama un dischetto struccante e un coton fioc con del nostro adesivo bianco non avevo molte idee ora disegna con la mano opposta a quella che usi di solito quindi siccome io sono destrossa dovrei scrivere con la sinistra quindi vediamo cosa verrà fuori bene ecco cosa è venuto fuori è tipo orrendo perché io non so proprio scrivere con la mano sinistra non so fare niente con la mano sinistra e quindi caliamo un velo pieto sulla mia bravula con scrivere la mano sinistra poi prossima pagina scarabocchia selvaggiamente usando solo pene prestate questo l'ho dovuto fare in giro perché comunque potevo portarmi a casa le pene degli altri quindi ho scarabocchiato selvaggiamente scrivi con non curanza adesso non so cosa voglia dire però noi scriviamo adesso prendo una penna scriverò la mia non curanza proprio prossima pagina fai un movimento imprevisto distruttivo e imprevedibile con questo diario quindi io adesso siccome è la prima cosa che mi è venuta in mente è dargli fuoco quindi prenderò col mio accendino ovviamente facendo attenzione che non devo prendere fuoco io ovviamente ve lo faccio piano piano ecco quello che è venuto fuori sembra più che altro mangiato dai topi o comunque sembra una grubbiera che bello bene adesso è pieno di fuligine ovunque quindi prossima pagina incolla cose a caso qui io siccome ho trovato solo una cosa a caso che potevo incollare dell'etichetta di una delle mie Yankee Candle quindi ho attaccato quello e basta anche per oggi le 10 pagine sono finite e noi ci vediamo la settimana prossima con altre 10 pagine stiamo arrivando alla fine perché davvero ne mancano poche perché noi abbiamo già fatto tutte queste e ne mancano magari una ventina quindi stiamo arrivando alla fine ci vediamo la prossima settimana con altre 10 pagine se volete iscrivetevi qua sotto troverete tutte le istruzioni sia in italiano che in inglese nell'info box e ci vediamo al prossimo video e nel caso volete farlo potete seguirmi anche su Facebook su Instagram Twitter e Tumblr e noi ci vediamo al prossimo video ciao